Siamo partiti male e si è visto, abbiamo subito due gol per distrazioni della nostra retroguardia, però comunque poi alla fine sono usciti i valori. Poi il gol fatto a fine del primo tempo è stato fondamentale perché ti permette di andare a riposo con uno svantaggio minore. Poi siamo concentrati, abbiamo fatto quadrato e il risultato l'abbiamo ottenuto perché è riuscito a fare comunque il nostro valore. No, noi comunque il nostro obiettivo non è guardare proprio le prime posizioni perché con i punti che abbiamo perso per strada nel giro di andata e puntiamo insomma arrivare alle finali e dire la nostra perché nella partita secca abbiamo dimostrato che siamo ostici.